Ed è tutto, linea Roma. Da tutto il mondo i messaggi di cordoglio e solidarietà alla Francia. In diretta il corrispondente Gavino Moretti. Sì, tutta l'Europa in questo momento si stringe intorno alla Francia. Il messaggio che sta arrivando dai vertici dell'Unione. In questo momento la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha detto siamo uniti e determinati di fronte alla barbarie e al fanatismo. I Presidenti del Parlamento europeo Sassoli e del Consiglio dell'Unione, Michel, hanno detto tutta l'Europa è con la città di Nizza, dobbiamo fermare chi incita all'odio. Ma da tutte le capitali europee arrivano segnali di vicinanza alla Francia. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto alla Germania è solidale con la Francia in questo momento difficile dopo questo attacco brutale nella Basilica di Notre Dame a Nizza. E da Londra, con un messaggio in francese, il primo ministro Boris Johnson ha detto sono sotto sciocchi, il Regno Unito è accanto alla Francia nella lotta al terrore e all'intolleranza. Infine dalla Santa Sede a Roma si fa sapere che il Papa è vicino alla comunità cattolica di Francia e prega perché l'amato popolo francese possa reagire unito al male con il bene. Da Bruxelles è tutto, linea a voi. Vicinanza e profondo portoglio.